One hour, one hundred and fifty. One hour, one hundred. Fifty. One hundred. One hundred and fifty. One hundred. Where are you from? El Gona è una cittadina sul Mar Rosso che voglio mettere sulla tua mappa. In questo video la conosceremo oggi per la prima volta. E poi ci torneremo molto più spesso perché è un volto dell'Egitto che mi piace offrire. Guardate che ville private su isolotti. Questa è una piccola cittadina, una sorta di stato nello stato se vuoi perché ha una sicurezza. Per entrare qua devi passare un controllo di sicurezza e all'interno trovi il top. El Gona è stata fondata da Sawiris, uno degli uomini più ricchi d'Egitto, sulle coste del Mar Rosso a poca distanza da Orgada. Il livello dei servizi, dei ristoranti, dei bar, dei caffè, centri da golf, fanno del Gona probabilmente la meta di destinazione preferita fra le elite egiziane ma non solo. Perché qui ci sono moltissimi europei che non solo vengono in vacanza ma si trasferiscono a vivere. Più avanti vi farò vedere anche la splendida marina, gli yacht, le spiagge. Guardate adesso anche i complessi residenziali, oltre agli alberghi che sono moltissimi all'interno del Gona di qualità, di lusso. I complessi residenziali sono incantevoli, sono delle vere e proprie oasi sul mare con elementi di design moderni, linee... Guardate qua, eccola qua, siamo sulla marina, la spiaggia è lunghissima, ci sono dei caffè sul mare dove si può mangiare, bere un prosecco, fare degli aperitivi come forse da nessuna parte in Egitto. Adesso stiamo salendo, siamo in un'altra area perché è veramente gigantesco, ci sono vari alberghi, complessi residenziali di tipo diverso. Vedete qua questo splendido campo da golf con le buche anche in acqua. Questo è un supermercato, un piccolo supermercato ma veramente dove si trova di tutto e anche il Wonderville. Insomma questo per dire cosa, ci sa tutto quanto, non so se avete visto dietro di me il tonno riomare, mango, avvocati, verdure di tutti i tipi, morale, se venite qua sia che state in albergo o fuori trovate di tutto e di più. Se sei stato a alguna scrivilo nei commenti, condividi con gli altri utenti la tua opinione perché se hai visto coi tuoi occhi hai una sensazione, capisci di cosa parlo, avrai probabilmente una dialettica, un'oratica, una francesistica migliore di me anche per far arrivare il messaggio in maniera migliore. Questo era un video veloce per così farvi un po' conoscere Guna e per saperne di più guardate gli altri video nel canale. Fenomenal! Siamo a Dol Sharma e buongiorno Egitto a dei nuovi e vecchi fan che mi hanno fermato riconoscendomi e hanno detto grazie a Omara, grazie a buongiorno Egitto che siamo qua e questa è una bellissima cosa, tutti insieme grazie a buongiorno Egitto. Grazie a buongiorno Egitto, ciao Omara, ci vediamo alla prossima. Ah guarda è assolutamente da non perdere, si mangia meglio che in albergo, è una magia di colori, di luci spettacolare, veramente da non perdere, te la consiglio vivamente e non ci guadagno niente. Hai avuto il cagotto? No assolutamente. Guarda che mare, questa in realtà non stai a sognare, mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello e un vetuino. Voglio far arrivare a questo video quattro minuti, è una questione di principio, perché il Guna, il video del Guna è dal canale inglese, però quando poi mi arrivano tanti clienti, allora gli spiego del Guna, dico almeno hanno visto qualcosa in italiano, poi ci torneremo a un posto bellissimo, quindi abbiamo solo dei quattro minuti. Se sei arrivato fino a qua vuol dire proprio che sei un follower affezionato, quindi scrivi sotto i commenti... Lo sbarbanello grigio. Lo sbarbanello grigio.